Innaugurato il percorso museale direzione superiore studi ed esperienze. Firestorm, il nuovo volume della collana a fumetti 100 anni di aeronautica militare. Bentornati con le notizie di Videonews. Inaugurato il percorso storico museale della direzione superiore studi ed esperienze all'aeroporto militare di Guidonia. I particolari nel servizio del tenente Michela Violante. Il 27 aprile, nell'anno del nostro centenario, la direzione superiore studi ed esperienze, uno dei primi centri di ricerca e sviluppo per le sperimentazioni sul volo, rinasce grazie ad un percorso storico museale in 3D. Attraverso le più moderne tecnologie della computer grafica sono stati riprodotti e valorizzati gli impianti e gli edifici del centro di eccellenza di Guidonia. La prima fase, sicuramente quella più importante, è lo studio del materiale storico, quindi dalle piantine delle infrastrutture, degli edifici, alle fotografie dell'epoca. Poi una volta raccolte tutte queste informazioni si passa a una fase di modellazione 3D, dove grazie all'Autodesk 3D Studio si ricreano proprio i modelli 3D degli edifici. Un omaggio all'enorme patrimonio storico e scientifico dell'aeronautica militare. Un legame indissolubile tra l'aeroporto di Guidoni e il territorio non solo simbolico. Infatti, la cittadina alle porte di Roma, dove oggi assiede il sessantesimo stormo, porta il nome del generale Guidoni. Questo recupero della direzione superiore studi ed esperienze è un momento fondamentale perché ci riconnette in un periodo storico che è agli inizi del volo, dove l'Italia con i propri ingegneri, i propri aviatori, che allora chiamavano pionieri, era all'avanguardia e ha segnato quello che di fatto sono state pietre miliari, record dopo record, della storia dell'aviazione mondiale. Presenti all'evento, il comandante delle scuole dell'aeronautica militare e della terza regione aerea, generale di squadra aerea Silvano Friggerio e diverse autorità del mondo accademico e scientifico. Ospite d'eccezione, la professoressa Amalia Ercoli Finzi, prima donna a laurearsi in ingegneria aeronautica presso il Politecnico di Milano, una delle personalità più importanti nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali, consulente scientifica della NASA, dell'ASI e dell'ESA. Senza studi, senza sperimentazione non si fa niente, non solo in campo aeronautico ma in tantissimi altri campi e quindi questa è una pratica da seguire, la sola che può portare a un vero progresso per l'intera umanità. Istituita nel 1935, la Direzione Superiore Studi ed Esperienze fu bombardata nel 1944. Grazie all'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Aeronautica è stato possibile recuperare e riprodurre virtualmente le principali sezioni del complesso infrastrutturale. La sezione aerodinamica ospitava le gallerie del vento, la galleria a doppio ritorno e la galleria supersonica. Quest'ultima era la più avanzata di quell'epoca per potenze e dimensioni, conosciuta anche come galleria stratosferica ultrasonora. C'era poi la sezione idrodinamica, la cui vasca era tra le più grandi e innovative di quel periodo. Da quella realtà ad oggi sono stati fatti passi da gigante nel campo della tecnologia e delle scienze aeronautiche. Le scuole di volo ovviamente sono orientate al futuro, perché non possiamo imparare solo ed esclusivamente al passato, ma appunto dobbiamo guardare al futuro per essere pronti alle sfide che il futuro ci presenterà. E quindi in questo contesto conoscere il passato è certamente utile per essere più pronti a gestire e a governare il futuro. Sarà possibile visitare il percorso museale e vivere l'emozione dell'inizio della storia del volo ogni fine settimana, con prenotazioni a partire dal primo maggio sul nostro sito istituzionale. Le aree saranno visitabili dal primo weekend di maggio. Con il fumetto Firestorm si arricchisce la collana 100 anni di aeronautica militare. Il volume racconta con accuratezza e aderenza storica una delle operazioni più rilevanti svolte dall'aeronautica militare in Libia nel 2011. Una missione complessa in cui uomini e donne, mostrando piena competenza, coraggio e spirito di abnegazione, hanno dimostrato di saper ricoprire un ruolo delicato e centrale per la buona riuscita della complessa campagna aerea in atto sulla sponda del Mediterraneo. Il volume rappresenta un tributo alla passione, alla capacità e alla determinazione del personale dell'aeronautica militare che festeggia i suoi primi 100 anni di vita. È possibile acquistare il fumetto nello store Amazon dell'aeronautica militare. Videonews termina qui. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buon weekend! Buon weekend!